Un saluto da TG della mobilità. Con la ripresa delle attività in presenza per le scuole superiori di secondo grado, da un minimo del 70% fino al 100% nelle zone gialle e arancioni, è stata rimodulata l'articolazione oraria delle linee S, le 13 linee express a servizio di studenti e lavoratori. Da lunedì 3 maggio i bus integrativi gestiti da Astral per conto della Regione Lazio, in collaborazione con ATAC e Roma Servizi per la Mobilità, hanno anticipato l'orario di servizio nella fascia pomeridiana. Ora sono attivi dalle 14.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì e non più dalle 16 alle 19.00. Resta invece invariato l'orario del mattino. Grazie a tutti.